che ci accompagna un po' da un po' di settimane dobbiamo andare dalla nostra signorina buonasera buonasera signorina sei molto bene con i caverisi buonasera signorina buonasera come va tutto bene? un po' sfibrata la vedo sempre così come va? è un po' triste che è la nostra ultima puntata sono fracassata come sono? è fracassata ma voglio capire solo è fracassata dall'accumulo di queste puntate o è fracassata tutte e due le cose va bene che vogliamo fare? ci dia l'abbrivio? ah si l'abbrivio si dove l'ha messo? all'ultima puntata piano 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 tanto c'è tempo oggi 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 è 5 gennaio che è successo? si stava sistemando oggi è 5 gennaio oggi è 5 gennaio un'incomodità unica Santa Amelia Santa? Amelia Santa Amelia io a me mi pare che una meglia la conosco comunque Sanco in voi o no? aspetta Sanco voi ne Sanco voi ne Sanco voi ne l'ho detto bene e San Deo gratias Deo gratias ma non possiamo dire i santi italiani noi festeggiamo tutti i santi ma italiani non c'è no dico ma perché sei razzista tu no però dico sei razzista? no dico stai facendo del razzismo perché lei è razzista assolutamente no guardi qua le pare? no dico lei mica è italiana no? io lei di dove? no francese vedi ti pare non c'è nessun tipo di pregiudizio contro i francesi vero? assolutamente no assolutamente no ma ci mancherebbe altro e manca io contro gli italiani assolutamente ma ci mancherebbe altro cioè siamo molto aperti di mentalità noi siamo molto aperti esattamente anche troppo forse a volte troppo no 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 a volte ci vuole dire qual è Aia ci vuole dire qual è per favore la parola del giorno la parola del giorno non salutiamo Amelia tu non conosci una Amelia io non conosco Amelia però possiamo salutare ma è Amelia facciamo gli auguri tanti auguri Amelia la parola del giorno allora la parola del giorno è lunghissima è complicatissima ka lo ka ga tia ka lo ka gattia ka lo ka gattia questa è greca è una parola greca che dio assolutamente l'ha pronunciata benissimo ma è incredibile bravissima è l'ultima puntata è l'ultima puntata ka lo kagatia grazie a tutti Grazie.